Dalla parola che arde al suono che infiamma. Dal 27 luglio fino al 12 di agosto in Molise Spazio Assonica, l'edizione estiva di Poietica. Mentre la rassegna conclusa a Campobasso lo scorso 16 di aprile ha avuto una dimensione prettamente cittadina, la versione estiva si contraddistingue per il suo carattere itinerante con l'approdo in alcuni dei luoghi più suggestivi e rappresentativi della regione, a riprova alla location della data zero. Nell'area archeologica di Altiglia i Giardini di Mirò e Paolo Benvenu apriranno questa quinta edizione. Sarà una rassegna di livello sicuramente elevato, ha assicurato nella conferenza stampa di presentazione il governatore Donato Toma che nell'occasione ha sfoggiato conoscenze musicali da intenditore. Da rilevare infatti che la direzione artistica di Valentino Campo prevede un cartellone di respiro addirittura nazionale, incentrato sui rapporti tra parola e musica, con un occhio di riguardo alla canzone d'autore, ai legami tra rock e poesia, a figure ed eventi storici per la musica sia italiana che internazionale. Avvenimenti musicali di grande elevatura, devo dirlo, e che non ripropongono altri avvenimenti musicali che sul territorio avremo durante l'estate, penso a Campo di Pietra, Jazz in Campo, penso ad altre manifestazioni e festival che noi avremo. Avvenimenti culturali di poetica musica che io conosco i gruppi che sono stati invitati, è una musica non sofisticata ma per dell'it, è una musica per chi vuole sperimentare qualcosa in più. Assolutamente, il Molise è all'avanguardia, abbiamo la Fondazione Molise Cultura che sta dando, come dire, la parola la sta veramente accendendo e sta accendendo il cuore dei molisani e di quelli che ci vengono a visitare. Con Steve McCurry sono stati tantissimi, quasi 15.000. La cultura è importante per l'uomo, è un modo per imparare a leggersi l'anima ed è un modo per imparare a leggere l'anima del tuo simile. Se non c'è questa doppia azione, la lettura della propria anima e la lettura dell'anima anche sua che mi sta intervistando, non possiamo vivere in pace.